E' una persona tranquilla, che non ho un sacco di provvedimento di essere famoso, ma che lo disfruto e lo vedo per l'altro lato. C'è un piede incredibile. Perché è il piccolo gioiellino nostro, come lui non ce n'è. Rocco, è un fenomeno. Quando mi incontrano per la casa, mi chiedono foto e mi chiedono che faccia la Di Bala mask, e io a volte le explico e le dico, no, non voglio usarla tanto, perché sennò non la voglio più usare nel campo. Paolo di Bala, se ne per noi, Paolo di Bala, se ne per noi. Non è solo una celebrazione di un gol, ma che ha un messaggio attra, che per l'altro ha bisogno di fare una masca come gli gladiatori. La scena è stata di una scena di un'altra scena di un'altra scena di un'altra scena. E' incredibile. 15 secondi per che termine mi arriva una pelota al borde dell'aria Ruggani con il piattone per Dybala quindi mi girò e pude fare un caio al defensor e mettermi nell'aria Paolo, attenzione, Dybala, attenzione! Una vez che entré allì, tuve che aguantare la pressione di un altro del Laggio che stava arrivando Talvez poteva essere penal ma in questo momento tratté di seguirlo a giocare Dybala, attenzione, Dybala, attenzione! Dybala, Dybala! 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 Dibala! Dibala! Un gol strepitoso strepitoso della gioia! Quando salì corriendo a festejar il gol una sensazione incredibile perché perché come ha detto il partito come scrittore! Puoi scrivere un libro! Io sono arrivato da 21 anni hace 4 anni e mi accorgia con la camiseta numero 21 che per la storia del Juventus è un numero molto importante la società mi chiede mi chiede di giocare con il numero 10 e la verità è che non è facile prendere questa decisione lo pensé e decidì di giocare sapendo che non sia facile che le critiche erano più difficili in un'equipo così grande come il Juventus la verità è che non c'è il prezio e mi sento molto fortunato da dove sono Mauro! Viva! Mauro! Viva! Viva! E credo che è fondamentale concentrarci in quello che viene il giorno dopo del partito relazarsi entrenare alimentarsi bene per essere bene per i prossimi partiti e si è in di Paolo Di Valla sempre chiede domande le difendenti è davvero fantastico è l'ora della scena è l'ora della scena è l'ora della scena è l'ora della scena il giocatore di nuovo Carlo la banda di Nahuel non c'è un rival non c'è un rival è un attaccato sono un attacato è un attaccato un attaccato un attaccato è un attaccato il giorno si è un attaccato finito tutti insieme l'attaccato ho terminato l'entrenamento e continuiamo a seguir con una foto e un video per i giorni La gente sempre me tratta molto bene, ho molti fans, non solo di gioventus, ma anche di altri equipi, sempre mi trattano bene, mi piden una foto, è incredibile, quindi sempre trato di essere disponibile. Sono una persona tranquila, che non approfitto o faccio di essere famoso, ma che lo disfruto e lo vedo per altri luoghi. E' un orgullo molto grande vero a Paolo qui. E sicuramente per i nostri amici che sono in Argentina, lo vedono a la distanza, ma si si disfruta ogni giorno. Acabiamo di terminare il giorno facendo la foto di Adidas e i video, e ora torniamo un po' di matti con Nahuel, mio amico. Ciao a tutti, qui siamo con Rodri. Come andiamo? Come andiamo? Come andiamo a raccontare un po' come se prepara il matti, che ovviamente è argentino, no? Si, non c'è chance, con tutto urbano. Sempre lo stesso. Primero poniamo un po' di yerba, una volta se pone la yerba, un po' di acqua fria, per che si inche la yerba, poi mettiamo un po' di acqua, speriamo 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 un po' di acqua, spero che lo e in quello che facciamo il acqua fria. Metiamo acqua calente, la sme, non so che si che non si absorbo la yerba, mettiamo la gummilla, impuiamo un po' di acqua la yerba e qui qui ci si serve un bel matti urbano preparato. O argentino. So stiamo lo chiamo per andare a la cancha. Ovviamente sempre in compagnia di un buon mate, per viajarci. Quindi noi stiamo ora stiamo bene. Dopo di perdere un partito così, dove l'equipo dominò per 85 minuti il partito, è feo, è feo, ti fai con rabbia che non concedi a un rival come Manchester United, con la storia che ha in Champions, con lo che significa che ha in questa competizione come è la Champions League. Se non cura detalle, se non stai attento a ogni centimetro, ti fai con jugatori che facendo un gol di tiro libero come lo ha fatto Mata o in due partito, in due minuti ti ha avuto un risultato con bronca, però a seguire, a prendere dei errori è anche buono. Avevo fallato un penal in Doha, in Doha, contro il Milan, e aveva stato l'ultimo penal di noi, e poi il Milan diventò, quindi perdiamo la finale. E, beh, sono state un'occasione horribile, perché io mi chiede pensando molto in questo penal, in come superare questo momento. E, beh, sono state un'occasione, la idea di la mascara, di mi festejo, la mascara di un gladiador, però, beh... Non è solo una celebrazione di un gol, c'è un mensaggio attra, che è sempre andare avanti dopo che succedono cose. L'altro è proprio un aforzo. Per l'altro è che bisogna un'occasione, come gli gladiatori. No, la verda è che aver convertito un triplete in champion e poi puoi portare la pelota autografiata per il tuo compagno a casa è qualcosa di incredibile perché uno è chiquito sempre guarda la competizione e anche perché è una pelota hermosa, molto bella Ponte la mascara. No, non mi come la mascara, mostrala. La mascara è di mexico. La mascara è di mexico. Basta un po' il barbino. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Buongiorno a te. Buongiorno a te. Buongiorno a te. Ho scusato la commissione per creare un masco special per Dybala. The Oggi ofre la ofrelu�니다. I ocrasano con la maschera, Copa. What do you think Lawson bello Nazi bene Leo Buongiorno E decree Buongiorno Da buongiorno Sì! Guarda qui il peleo! Grazie a tutti. Grazie a tutti.